Non solo under di centrocampo, l'Avelino lavora anche alla difesa, il DS De Vito è a caccia del giusto mix tra over ed under per la difesa 3 di mister Taurino che dal ritiro di Mercogliano comincerà a lavorare sul suo 3-4-3 con circa l'80% della nuova rosa a disposizione. Per quanto riguarda le uscite, l'agente di Carriero ha svelato che ci sarà la risoluzione del contratto, formula che probabilmente sarà utilizzata anche con altri calciatori. Qualche interesse concreto c'è in questo momento soprattutto per Vincenzo Plescia, diverse le squadre sull'attaccante classe 98 che partirà in prestito mentre per scognamiglio qualcosa ha cominciato a muoversi. Ciancio e Mastalli vorrebbero avvicinarsi a casa e quindi una soluzione dal nord sarebbe molto gradita ai due. Interesse anche per Forte, oramai superata la situazione Taranto, l'estremo difensore cerca la migliore soluzione per il prosieguo della sua carriera. Altri due anni di contratto per Aloy, Tito e Silvestri, freschi di rinnovo fino al 2024. Estimatori che al momento si sono limitati ai sondaggi e che magari aspetteranno qualche settimana prima di affondare il colpo sui profili bianco-verdi. C'è ancora tempo al ritiro di mercogliano che dovrebbe cominciare nella settimana che va dal 18 al 24 con una data precisa non ancora stabilita o meglio resa nota. Il Monopoli è piombato su Carriero anche se non sembra esserci trattativa concreta e su Maniero che continua a guardarsi attorno alla ricerca forse dell'ultima avventura importante viste le 35 primavere.